E' una famiglia molto conflittuale, però che hanno smesso di litigare, nel senso che c'è un dolore che pervade tutta la messa in scena, ma è un dolore sotto chiave in qualche modo. E' frutto di un tradimento importante che uno dei protagonisti fa verso la moglie nei primi anni 60 e poi ha un risvolto, un rientro in casa nel tentativo di ricostituire un'armonia perduta che però non si riesce. Lo spettacolo ripercorre le attese, le sconfitte, i ripensamenti, le frustrazioni, il dolore, le separazioni, i rimpianti, le dinamiche distorte di una coppia che hanno ricadute impreviste sui figli. Io torno a casa in qualche modo per amor loro, però la mia vera colpa non è quella del tradimento ma è il mio rientro in casa. Il centro della scena viene presa da questa donna che in maniera abbastanza metodica serve un veleno giornaliero e quindi è un po' impossibile sviluppare un rapporto armonioso. analizziamo la famiglia come il peggior posto dove poter far crescere i sentimenti. Una tragedia contemporanea quasi mascherata da commedia con personaggi pieni di sfumature dove ci si rende conto che niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone. Il spettacolo ha una sua forza sul pubblico perché non prospetta vittime, carnefici, non ha ricette. È una visione abbastanza oggettiva di quello che è. Ci sono cinque verità, cinque punti di vista che vengono portati in scena. Quella dei due genitori, quella dei due figli e anche di un vicino di casa. E quindi questo fa sì che non ci sia, non è uno spettacolo sadico in cui si vuole far soffrire qualcuno, che sia il maschio o la femmina. Si mette un punto di vista abbastanza oggettivo e ognuno poi riconosce quello di sé, qualcosa di sé, dei propri errori.